È una società di Fano ad avere la gestione, sono soddisfatta come amministrazione ma anche come cittadina perché è una società che già conosce l'impianto, che è un impianto che tutti conosciamo alla sua età e quindi speriamo di avere una bella avventura, un in bocca al lupo alla società di Fano che ha tanto dato al nuoto fanese. Tempi tecnici, domani mattina cominciamo immediatamente a portare il nostro materiale, seppur provvisoriamente perché sappiamo che l'affidamento è provvisorio in attesa di eventuali ricorsi e la prima cosa che faremo domani mattina al lato dell'apertura è sistemare i parametri dell'acqua perché necessariamente l'acqua deve essere al top per poter permettere l'ingresso e la valenazione in tutta sicurezza. Dovremo essere operativi a breve, salvo imprevisti ma spero che non ce ne siano. Una previsione per lunedì la possiamo fare? Io voglio aprire prima di lunedì, comunque diciamo lunedì.